Capitano Giovanni Sarnicola è arrivata una Serie A incredibile, 11 a 7 davanti a un pubblico delle grandissime occasioni, tutto pieno al pallapallannuoto, il gol numero 11, quello che di fatto ha segnato la Serie A 2, lo hai realizzato tu. Innanzitutto ci tengo a ringraziare tutta questa gente che oggi ha corsa numerosa alle Naiedi, è stata sicuramente una spinta in più per tutti noi, per quanto riguarda me la cosa più importante era esserci oggi, essere insieme ai miei compagni e conquistare tutti insieme questa Serie A che ormai mancava da troppo tempo. Ma che entusiasmo, io non so, tu hai quasi 32 anni, diciamo così, una cosa del genere penso che non l'avevi mai vista nella pallannuoto giocata da te. Diciamo che qua a Pescara no, era tanto che non vedevamo una cosa del genere, ci speravamo dopo quello che abbiamo visto settimana scorsa con la Nazionale, abbiamo fatto un appello, la città è venuta numerosa, ci hanno sostenuto dal primo all'ultimo secondo e per noi questa. Non possiamo che ringraziarli perché è sicuramente anche merito loro. Paolo, poi ci tenevo a fare una dedica speciale, una persona che io non ho avuto la fortuna di conoscere ma che ha dato tanto per la pallannuoto e per Pescara che è Gabriele Pomiglio. Sicuramente è una vittoria che dedichiamo anche a lui perché è una persona che, ripeto, purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscere ma che ha dato tantissimo a questo sport e a Pescara soprattutto. Tu hai giocato in extremis perché hai recuperato in maniera velocissima, da un infortunio grave alla spalla. Oggi, prima partita che rigiocavi, l'hai voluta fortissimamente. Come è andata? Come sensazioni poi il gol? È esploso il pallapallannuoto. Diciamo che il gol è stata la ciliegina sulla torta. Ringrazio Luca Manprin perché con la sua gentilezza, la sua bontà, la sua professionalità ha permesso che io oggi abbia potuto giocare insieme ai miei compagni. Io avevo chiesto qualche minuto, Checco mi ha concesso diversi minuti e il gol alla fine, ripeto, per me è una gioia immensa ma la gioia è aver vinto questo campionato tutti quanti insieme perché l'abbiamo meritato dalla prima all'ultima giornata. Nonostante molti non ci credevano, noi abbiamo dimostrato di essere una squadra con gli attributi. Tu sei di Civitavecchia ma ormai pescarese di adozione. Ti senti davvero così? Avete fatto tutti una grande partita ma tu ci hai messo un cuore come se fossi di casa. Lo sei di fatto? Pescara per me io ormai la reputo casa mia. Sono arrivato qui che avevo 20 anni, sono stato accolto come un figlio da questa città e ne sarò sempre riconoscente a questa città e soprattutto esserne capitano per me è un motivo d'orgoglio. Era doveroso da parte mia dover dare quel qualcosa in più e soprattutto anche nei confronti di quelle persone che mi sono state vicine in questi mesi davvero difficili per me. Grazie a tutti.